l'atmosfera di venere pare che a bordo ci siano armi chimiche scar e marine abborderanno la porta aerei per trovarle e distruggerle poi faremo saltare anche la nave pronto ad armarsi signore le consiglio una mitragliatrice leggera hanno un gran volume di fuoco ottime se vi trovate in difficoltà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti siete pronti a partire fateli a pezzi silenzio silenzio a tutta la nave silenzio sui punti silenzio capitano ho scaricato le planimetrie dell'ela se fornirò supporto tattico ti guiderò attraverso la nave nemica e ti acuterò a tornare tutto indietro roger fever ci sei? pronta andiamo scar scar segnaliamo vento forte lungo la traiettoria di volo roger 1-1 scar 1-1 in posizione di lancio roger siamo pronti roger 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Squadra, prendiamo il controllo del supporto vitale e facciamoci strada fino all'armeria! Ci sono armi chimiche a bordo, occhi aperti! Sì, tenete! Movimento! Dividetevi! Attenzione agli angoli! Aspettate che la zona sia libera! Prendete le sue punizioni! Forza nemiche! Sulla passerella! A sud! Ehi, copritemi! Che c'è punto? Dieci metti! Libero! Dovrebbe essere vicina! Dovrebbe essere vicina! A lavoro! Ethan! Accedo alla loro rete! Sei dentro! Devio il supporto alla tua tuta, capitano! Ora puoi controllare gravità e pressione! Ore 12! SDF in arrivo! Via libera! Le armi chimiche sono nell'armeria! Ci siamo! Preparatevi! Via! Via libera! Ci riferiscono che stanno caricando le armi chimiche nelle testate! Prendo un campione dall'armeria! Poi possiamo distruggere tutto il resto assieme alla nave! Capitano, nemici in arrivo per difendere l'armeria! Ricevuto! Posizioni di difesa! Io violo la porta! Inizia la violazione, Reyes! Sono connesso! Ethan, quanti ne arrivano? Almeno una ventina! Hanno anche dei C6! Posso bloccare le porte, ma non li ralletterà molto! Ecco che arrivano! Pronti? Fuoco! Di robo! Un pulgo! Un pulgo! Un pulgo! Un pulgo! Un pulgo! Grazie a tutti. Facciamoli fuori! Campione acquisito! Piazziamo le cariche. Assicuriamoci che non possano usare questa merda. Attenzione! Applicare condizione 1 a livello generale. Ripeto, condizione 1 a livello generale. Questa non è un'esercitazione. Cariche piazzate! Andiamo! Retribution! Ci dirigiamo all'uscita! La Elas sta perdendo quota. Dovete sbrigarvi. Verso gli hangar, presto! Perdono! Perciò l'incorso. Grazie a tutti. Iter, stiamo partendo. Fai saltare le cariche. Capitano, le cariche sono collegate al tuo abitacolo. Partite e fatela esplodere. Scara a distanza dal bersaglio. Faccio saltare le cariche. Dovrebbero accorgersene. È la sdistrutta. Una in meno di cui preoccuparsi. Informazione. Torniamo a casa. Qui Rider, missione compiuta. Rientriamo. Ricevuto, capitano. Vi vedo sul radar. Buon viaggio. Ora quella nave è polviscolo spaziale, eh? Le forze Saato hanno smettato l'attacco chimico contro la Terra, distruggendo la nave del Settlement Defense Front che trasportava in carico le tali. Ciò nonostante, pare che l'agente chimico non sia stato chiaramente convinto. Gli esperti sostengono che il vuoto spaziale dovrebbe rendere inerte il composto, ma per dirlo con certezza, bisognerebbe almeno conoscerne le caratteristiche. L'organizzazione della sanità dichiara che i miei aiuti per le colonie sono già in partenza. Qui Peter Bracken, diretta la città. Grazie.